A Teramo si apre la gara per la progettazione del bioessiccatore, l'impianto che produrrà biometano ed energia elettrica da scarti di cibo e sfalci di verde e sarà costruito in contrada Carapollo dove sorgeva l'ex inceneritore. La Team, la società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in città, ha pubblicato il bando rivolto ai professionisti interessati a proporre soluzioni tecniche per la realizzazione dell'opera, finanziata con 28 milioni di euro tramite il PNRR e il Piano Nazionale di Ripresa e Residenza. Abbiamo pubblicato il bando per reperire il soggetto che provvederà alla progettazione, abbiamo dato scadenze, noi ritenevamo di poterlo fare anche nel periodo feriale e poi abbiamo ritenuto più importante dare un po' più di spazio alle considerazioni che i progettisti dovranno fare quindi le scadenze le abbiamo allungate un po'. Le offerte vanno presentate entro giovedì 25 gennaio e il giorno dopo sarà avviata la verifica tecnica ed economica per l'individuazione dell'offerta migliore. A noi interessa un impianto che abbia la parte di triturazione, la parte di deferrizzazione, la parte della gestione sia delle plastiche che delle sabbie per avere poi le tre parti che ci interessano, la parte di gasse per creare energia, la parte di liquidi per poter smaltire la parte che si forma nella gestione del rifiuto e poi la parte residuale speriamo che sia ottima come compost. Il progettista o il gruppo di professionisti cui sarà affidato l'incarico avrà due mesi di tempo per firmare il contratto con la TEAM e tre mesi per consegnare il progetto definitivo. Subito dopo partirà la gara per i lavori che dovranno essere conclusi entro il 2026 secondo i termini previsti dal PNRR. Un'opera che permetterà anche di abbassare il costo da parte dei cittadini? Questo dipenderà molto da noi perché avendo il nostro impianto potremmo determinare il costo di ingresso in base ai costi effettivi che verranno svolti con il vantaggio di non dover ammortizzare la parte finanziaria. Quindi io spero vivamente una volta finito l'impianto di poter dare anche questo input ai fini della determinazione della tariffa.